Signori, un piccolo esperimento stupido però che aveva pure la sua importanza. Allora signori, stavo studiando un poco alcune cose riguardanti il volo, gli aeroplani, che ne so, i dirigibili, comunque mi stavo informando un poco, no? E allora mi è venuta una cosa in mente, gli esseri umani, no? Il fatto del pensiero di poter riuscire a volare ce l'hanno da tanto tempo. E con il passato degli anni avranno fatto esperienza a destra a sinistra per riuscire a capire bene o male come si possa riuscire a volare. Hanno studiato la, come si chiama, il flusso dinamica, quando hanno incominciato a fare le barche, perché signori, o il cielo o l'acqua sempre dentro a un fluido stiamo. Comunque, se io non voglio fare troppo il tecnico, i miei video sono fatti un po' alla buona, comunque fatemi con finitì. Allora, hanno studiato la flusso dinamica, quando hanno fatto le barche, hanno studiato l'aerodinamica, quando hanno inventato la vela, come capo si chiama, uffa... Ne hanno fatti tutti i colori, diciamo, perché il volo dei fratelli Wright è soltanto quello che ci vuole far passare come storia. Ma la storia dell'aviazione è vecchia e stravecchia, è vecchia quanto il mondo. Signori, vi ricordo ancora gli aquiloni, no? Vabbè, eh... Signori, comunque, tagliamo corte, eh? Allora, stavo studiando questa cosa qua, allora a me era venuto in mente, ehm... che nell'antichità, pure proprio dai tempi degli egizi, ci stavano i fogli, tipo, non di carta, ma di... eh... delle piante che tenevano là, che comunque era carta, per me. Allora, io ho pensato di fare l'aeroplanino di carta. Allora, pure gli egizi avrebbero potuto fare una cosa del genere, sì. perché io ho provato a farlo con, ehm... come cavolo si chiama, con una foglia, una qualsiasi foglia. Ma no, perché stavo pensando ad una cosa, no? Eh... Questa è una cosa semplicissima, che però posso fare tutti quanti. Allora, io ho pigliato una foglia di fico, no? Eh... questa cosa qui, vedete? Però l'ho pigliata un po' con migliore, più grande, cose... Scusate, piccole cellule della foglia di fico, che se siete morte prima del tempo, un po' per colpo di questo mio, come cavolo si chiama, voglia di fare esperimenti. Comunque, praticamente, ho pigliato una foglia di fico come questa, no? Ci ho levato il gambo, ehm... infatti si vede. L'ho ripiegata come solitamente ripiego il... il mio aeroplanino di carta, mi faccio vedere un po' che, eh. Vedete? Questa, la foglia era così. Vedete? Era il contrario di questa qua. L'ho dovuta pigliare bella grossa, perché, se no, mi sa che non funzionava. Comunque, vedete? Questa era tutta quanta ripiegata così, vedete? E poi io l'ho ripiegata prima così. Eh, ora così, se che diventa più lungo questo video. Poi l'ho ripiegata una seconda volta così. Vedete? E poi l'ho ripiegata una terza volta così. E poi l'ho ripiegata così. Già mi stanno attaccando le api. Poi l'ho fatta la terza volta così. E poi l'ho fatta, come faccio? Sono di maniera aeroplanini di carta. Sì, o no, no? Perché mi fa pensare una cosa, no? Io ho giocato al videogioco Shinobido, eh... Comunque Shinobido per PlayStation 2. In cui vi faceva vedere che i makibishi, quelle lì, che non so se c'erano presente, le castagne d'India. Eh, quelle tipiche cose che si mettevano per terra, per modo che uno ci andava per passare sopra, col piede, buon'altro sonatori. Comunque, eh... Lì le facevano vedere che, a parte quelle lì di ferro, cioè... Allora sì, c'è il ferro, no? A parte quelle là, no? Ci stavano, quelle lì già naturali, fatte tipo con le spine delle piante. L'aveva fatta vedere pure che pigliavano le foglie, ci facevano gli shuriken. Mo' io ho pigliato questa foglia e faccio l'aeroplano di carta. Vediamo un po' come... No, già l'ho provato, funziona. Però vediamo se mi riesce e farlo vedere pure la voi. Ha volato uno schifo. Comunque tanto per farvi capire, no? Si poteva riuscire a fare gli aeroplani di carta pure con le foglie. Vuol dire che, eh... Il volo lo si è studiato proprio da tempo. Poi, tipo per esempio, prima dell'aereo sono venuti fuori le mongolfiere. Cioè, andate bene, le mongolfiere che poi si sono trasformate in dirigibili, cose. Però, signori, la cosa che veramente ha fatto riuscire a far volare l'uomo, diciamo, no? Con gli aerei che stanno adesso, è stata l'invenzione del motore a scoppio. Perché il motore a scoppio levaci le ruote e mettici un'elica davanti, no? Perché, io non so se ci avrete presente quelle... Quando stanno alcune piante che utilizzano una specie di elica per diffondere i propri semi. Non so se ci avrete presente quel giocattolino che fa pure nell'antichità, no? In cui si mettono due mani così, lo si fa girare e quello gira a trottola così. Se riesce a trovarlo ve lo metto in descrizione. Comunque, intanto farvi capire questa cosa, no? È stata l'invenzione del motore a scoppio mettendoci l'elica davanti che ha fatto in maniera che si potesse riuscire a... come cazzo si chiama? Avere quella forza di trazione in modo che le ali potessero far valere la forza della portanza che ti mantieni... quello che ti mantieni in giro. Proprio il caso di dire. No, vabbè, ecco così, intanto farvi capire, no? Cioè, gli studi già si erano fatti prima, comunque se dovete aspettare di avere un motore potente che ti potesse riuscire a tirare per poter riuscire a... a volare. Però, signori, ci sta ancora tanto da fare, no? Perché noi stavo pensando da... come si chiama? Da quando sono state fatte le mongolfiere, cioè più è andata avanti più è andata più veloce. perché stanno sempre pure più persone che ci hanno pensato per sopra. No, fortunatamente abbiamo cose di tipo gli aeroplani, no? Però, ci avevo detto il fatto che... Sì, ci serve tante quelle cose a dire. Se volete fare comunque qualche... domanda, cosa... perché a me piace discutere. io per questo che fa parte il canale. No, per farmi follower. Per fare amicizie, cose. Comunque, vediamo se mi piace una volta. È venuto uno schifo. Comunque, se qualcosa dite pure, tanti saluti e vota Omar. Tanti subito non si vede nessuno. Tanti saluti e vota Omar. Non si vede nessuna.